ciao sono serena e benvenuti nel mio canale cooking with sere oggi prepariamo insieme la fregola sarda con i calamari iniziamo subito tagliando a pezzettini un pomodoro poi pulite i calamari e li tagliate a rondelline in una padella aggiungete un filo d'olio e un po di peperoncino cuocete i pomodori a fuoco vivo per qualche minuto aggiungendo un pizzico di sale aggiungete i calamari e cuociteli per qualche minuto poi versate il vino bianco e fatele evaporare ora è il turno della fregola aggiungete un po alla volta del brodo e mantecatela come se fosse un risotto ci vorranno circa 15 minuti se volete potete aggiungere del basilico fresco o anche del prezzemolo la fregola è pronta trovate il link della ricetta del blog sotto nella descrizione se vi è piaciuto il video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale